Siamo a Porto M, la sede del collettivo Ascausa in cui sono esposti gli oggetti che abbiamo recuperato in questi anni appartenuti ai migranti. Io sono Giacomo Sferlazzo e volevo dirvi di sostenere questo disco perché è un disco eccezionale e anche perché io ho composto una poesia che ascolterete quando comprerete questo bellissimo disco. Ciao! Ciao!